Buon giovedì 20 agosto, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, è sempre un piacere e ritrovarsi insieme al mattino presto alle 7 in diretta per sfogliare i giornali che tra poco vedremo e che troverete, mi raccomando, ricordiamolo sempre, in edicola. Non siamo qui per leggervi i giornali, siamo qui per sfogliarli, per approfondire magari qualche notizia, ma per invitarvi, come sempre, poi a comprare i giornali, a leggerli, perché tra l'altro la lettura fa sempre bene, aiuta il cervello, la mente e ci si tiene informati. E allora, noi diamo il là, e il là lo diamo anche per il santo del giorno, oggi è San Bernardo, un dottore della chiesa, Abate, ha fondato un monastero importante, il monastero di Chiaravalle. Allora il sole, l'alba alle 6.20 di questa mattina, il tramonto alle 20.08. Uno sguardo al tempo, le previsioni della protezione civile delle Marche per oggi indicano un cielo sereno, poco nuvoloso, con locali addensamente nelle ore più calde della giornata, temperature in aumento in particolare nei valori massimi. Per la giornata di domani, invece, venerdì 21 agosto, avremo temperatura ancora in aumento, tempo è soleggiato ovunque, in tutta la regione, costa, collina e montagna. Stessa cosa per la giornata di sabato 22, con temperature che sono in ulteriore aumento, soprattutto nei valori massimi. Il possibile transito, invece, di aria più fresca nelle giornate di lunedì e martedì darà luogo, secondo il bollettino, ad episodi di debole instabilità, con un calo anche delle temperature. Dunque, fino a domenica però avremo cielo assolutamente sereno, così come la giornata è serena, in questo momento lo possiamo vedere da questa splendida immagine, con la faccia di Tommy, il bagnino in primo piano, il sole che invece riflette sul mare dietro e c'è quella persona con la testolina che esce fuori dall'acqua, che è invidiabile. Allora Tommy, come sarà la giornata oggi? Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Oggi è una giornata d'agosto, queste ultime settimane di agosto ci stanno veramente no, perché mare come oggi e temperatura come oggi era da un po' che non la vedevamo, si stava veramente bene. Quando si dice il mare è piatto come una tavola, oggi possiamo veramente dire che il mare è piatto come una tavola. Oggi sì. Ormai siamo quasi in direttura d'arrivo, l'estate, adesso non lo voglio dire per non rattristarci, ma insomma stiamo via via scendendo verso la fine della stagione, quindi insomma noi continuiamo con questi collegamenti, so che tu ormai stai diventando un bagnino famoso, addirittura che cosa è successo? Addirittura ti chiedono gli autografi qua, insomma. Ma sono arrivati da Urbagna, un gruppetto di Urbagna che ha voluto un selfie con Tommy il bagnino. Va bene, e tu giustamente? Mi ha fatto molto piacere. E tu non ti sei sottratto, mi raccomando. No, assolutamente. Ok, grazie Tommy, allora ci vediamo domani. Andiamo adesso a leggere i giornali, cominciamo dal resto del carino, l'edizione nazionale, Gioele straziato e resta il mistero, questo è il titolo dell'apertura, la vicenda terribile di questa mamma e di questo bambino, che prima una, la madre e purtroppo poi anche il piccolo sono stati ritrovati morti. Trovato infatti il corpicino a poche centinaia di metri dal punto in cui era stato trovato il cadavere della madre, riconosciuto dagli abiti, polemiche e polemica sulle ricerche, perché solo l'arrivo dei volontari ha risolto il caso, perché come ormai ben sapete a trovarlo è stato un carabiniere in congedo, che a un certo punto si è lasciato, ha fatto due ragionamenti, due calcoli, tutto da solo, ha preso una strada che altri non avevano mai battuto prima di quel momento e gli ha dato ragione purtroppo ed è stato ritrovato questo corpicino, straziato dagli animali evidentemente. La causa della morte è attesa l'autopsia. Centropagini invece è un'altra di quelle cose che invece fanno davvero pensare. Pensate, il treno fantasma, questo è il titolo della fotonotizia d'apertura, in Brianza i macchinisti scendono dal treno e il convoglio parte da solo, sembra quasi un film da comiche, fantoziano. Corsa folle per 10 chilometri, poteva essere una strage. Un treno nel 2020 che non si riesce a fermare in nessun modo se non con uno scontro, così come è successo, cioè contro un qualcosa che poi lo ha fatto deragliare. Non c'era un sistema d'allarme, un sistema di frenata, un sistema da remoto che in qualche modo lo potesse fermare. Andiamo sulla pagina del resto del carlino di Pesero. Croazia parte l'ultimo traghetto. Sabato chiusi i collegamenti, 600 disdette causa Covid, il tour operator però ha grandi progetti per il 2021. La politica verso le regionali, Conte fa l'appello, ma Mercorelli gela tutti, il PD troppo vecchio. Area vasta, sanitaria ancora senza premi, la protesta dei sindacati. A centropagine invece a scuola come in aeroporto. Il liceo Marconi userà un termoscanner da 10.000 euro. Dunque tutti gli studenti entreranno in classe ogni mattina, dovranno mettersi davanti a questa telecamera. La telecamera con i suoi sensori misurerà la temperatura ad ogni studente. Intanto la lotta prosegue contro la lotta al contagio, test sierologici gratuiti per i dipendenti scolastici, mentre il Fano, e qui siamo al calcio, punta ai rinforzi. Ventola, Matos e Beretta tutti dall'Ascoli. Il Lavisse invece ingaggia due attaccanti, Benedetti e Falanghini. Sotto, qui di taglio basso, ex zuccherificio, piantiamoci una foresta. La proposta è del consigliere Marchegiani, ex vice sindaco. Ora ci sono soltanto scheletri di capannoni. E poi a proposito di ex assessori, ce n'è uno che ha bloccato una ladra e ha salvato il suo Rolex dal polso. Falcioni, Mauro Falcioni, avvicinato da una donna che ha tentato di sfilargli l'orologio, ma lui è riuscita a cacciarla via. Docenti e aule, il grande caos, titola il Corriere di Pesaro di oggi. Scuola, troppi ancora i rebus irrisolti, mentre partono i primi cantieri per ridefinire gli spazi. Gruppi di genitori sono già pronti a difidare i presidi per l'obbligo delle mascherine in classe. E già, perché c'è anche questo problema, che non tutti i genitori sono intenzionati. Io ne sto sentendo veramente tante persone e ci sarà da discutere su questo. Ci sono persone, ci sono genitori, che non hanno la benché minima intenzione di mandare i propri figli a scuola con la mascherina per tutto quel tempo. E allora su questo bisognerà capire che cosa accadrà davvero nelle prossime ore. Perché al momento tutti i ragazzi, tutti i bambini dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo, anche se saranno distanziati con i loro banchi, singoli, eccetera, però al momento la linea è questa. Però ci sono genitori che non vogliono assolutamente mandare i propri figli a scuola in quelle condizioni. A centro pagina invece, VL, il giallo del calendario. Parliamo di basket. La Lega di Serie A lo ha pubblicato per qualche minuto ieri, ma per sbaglio. Poi un sito che era lì pronto ha fotografato questo calendario. Lo screenshot poi è finito in rete e naturalmente potete immaginare ha subito fatto il giro dell'Italia. Fatto sta che, insomma, se non verrà cambiato, oggi da mezzogiorno sarà disponibile. Poi le notizie in breve sotto Pesero, tornati dalla Croazia, ma non riescono a sottoporsi al test, la storia di una coppia. Si decide su San Nicola, la fiera di Pesero, dopo quelle annullate a Fano e Senigallia, mentre ancora Cottarelli, dice, marca il gap infrastrutturale ti costa 15 punti del PIL. Bagarre con il Partito Democratico, ma Mercorelli non arretra. Andiamo avanti. da soli, dice il leader del... il leader, insomma, il candidato del Movimento 5 Stelle. Carloni e del Vecchio, smemorati della sanità, Marta Ruggeri, dei 5 Stelle, ricorda la loro passata adesione all'ospedale unico a Fosso, sei ore. Andiamo nelle pagine interne della nostra segna stampa. Cominciamo da Fano questa mattina, cominciamo subito con questa storia, questa vicenda che è capitata all'ex assessore Mauro Falcioni, che è stato anche vice sindaco. Ecco come ho salvato il mio Rolex, e questo è il titolo sulla pagina di Fano, la foto notizia, la foto grande, scusate, dell'ex assessore, con appunto il suo orologio. Questo è il Rolex che, già per la seconda volta, hanno tentato di rubargli, ma insomma lui è riuscito a tenerselo ben stretto. Che cosa, con che scusa, chiede Tiziana Petrelli del Carlino, con che scusa questa donna l'ha avvicinata. E lui dice, mi ha sfarfugliato qualche cosa, ma non ho capito bene cosa mi ha detto. Forse era un tipo, mi dà una mano? Ecco, non ricordo, perché è stato tutto un attimo in cui questa mi ha messo le mani addosso e io distinto l'ho allontanata. Ha usato la tecnica dell'abbraccio? No, non mi ha abbracciato. E poi dice ancora, quello che mi preoccupa, dice Falcioni, è che ci sono tante persone dell'età mia, lui ha 73 anni, che non sono in grado di reagire, di difendersi, come la mia vicina di casa, che invece è stata raggirata facilmente da questa ragazza. Le ha sfilato l'orologio d'oro senza neppure avere bisogno di usare la forza. Quando è successo? Sempre quella mattina. è stata avvicinata da questa donna di circa 35 anni e insomma hanno scambiato un po' di parole e poi alla fine è riuscita questa donna a rubarle l'orologio a questa vicina di casa, di Mauro Falcioni. Tra l'altro, l'ultima domanda è ha fatto denuncia la mia vicina? Sì, io invece no. Perché non ne vedo il motivo. Mi scoccia soltanto il fatto che poi quando le forze dell'ordine le prendono, dalla magistratura, vengono immediatamente rilasciate. E poi ci sono anche tanti altri dettagli. Intanto, sempre dalla prima di Fano del resto del Carlino, la notizia di politica. Matteo Salvini a Proda in città sarà in visita alla Profilglas. Un altro importante appuntamento. Salvini sarà a Fano. Si è appreso infatti ieri che sabato 22 agosto alle ore 10. Matteo Salvini sarà in visita alla Profilglas a Bellocchi di Fano. Piazza Andrea Costa titola così il Corriere. Piazza Andrea Costa senza le auto. Tonelli è stato un gran successo. La prova del 9 a metà settembre è quando la Giunta deciderà se rendere questo assetto definitivo. Dunque, per poche ore nei giorni scorsi Piazza Andrea Costa è tornata ad essere un parcheggio. L'area è stata concessa agli organizzatori di un raduno di autostoriche che ha attirato una piccola folla di curiosi. Tra le carcerie tirate a lucido hanno fatto bella mostra di sé anche stupendi esemplari di Ferrari. Poi si parla di Passaggi Festival che inizierà mercoledì prossimo il 26 di agosto alle 20.30 Passaggi Festival è il festival della saggistica si parla di libri ci sono un sacco di ospiti tra l'altro anche il giornalista Corrado Augas che aprirà la rassegna Passaggi e anche il regista americano Oliver Stone tra i tanti. poi c'è anche Timperi Tiberio Timperi c'è anche Linus per chi ama la radio c'è la figlia di Bud Spencer Cristiana che è autrice di un libro sul padre Bud Spencer Bud un gigante per papà insomma ci sono tanti eventi ma è importante ricordare alcune cose che intanto l'ingresso è gratuito come sempre ma per poter partecipare visti i momenti e l'emergenza che stiamo ancora vivendo per partecipare a questi incontri bisogna innanzitutto ricordarsi di stare in tutta sicurezza indossare la mascherina che potrà essere tolta soltanto una volta che ci si siede sulle seggiole per gli eventi in piazza 20 settembre si deve prenotare il posto è possibile prenotarlo al massimo 4 biglietti per spettacolo se si riservano due biglietti saranno assegnati vicini per tutti gli altri siccome Fano TV è media partner locale di questo importante evento come accade ormai da diversi anni noi stiamo organizzandoci e stiamo pensando di organizzare alcune dirette soprattutto per alcuni eventi in programma che poi sono in linea anche con con la nostra linea editoriale naturalmente quindi Passaggi offre una vetrina piuttosto ampia con tematiche altrettanto che spaziano da ogni parte ecco noi avendo una linea editoriale come ben sapete di ispirazione cattolica e chiaramente alcune cose dobbiamo in qualche modo limitarle quindi comunque abbiamo un bel programma e quindi speriamo di potervelo proporre in diretta con alcuni personaggi che si avvicenderanno sul palco di Piazza 20 Settembre e non solo di Piazza 20 Settembre una bella secondo me a mio parere una bella iniziativa è quella è una proposta quella dell'ex sindaco di Fano vice sindaco scusate di Fano Stefano Marcheggiani è quella di creare una foresta urbana dove un tempo c'era lo zuccherificio e dove adesso invece ci sono quegli scheletri di Cappannone che ogni anno diventano sempre si deteriorano sempre di più è la proposta una proposta interessante che cosa dice l'architetto tra l'altro Marcheggiani allora dice in quell'area intanto non si riuscirà a realizzare più nulla di tutto quello di cui si è sentito parlare in questi anni in questi anni si è sentito parlare di tante cose di realizzare una città della moda di un polo dei servizi della cittadella dei giovani dello sport il green village mondo canapa addirittura la new town insomma torri in cristallo di tutto e di più di tutto questo secondo Marcheggiani non si farà nulla e allora ecco che con un po' di coraggio caro mio un po' qui ce ne vuole tanto di coraggio si può pensare di abbattere gran parte di questi edifici esistenti e creare una foresta urbana a fianco delle fabbriche per salvare la salute di tutti penso che creare una foresta vicino alle fabbriche possa servire a mitigare l'inquinamento della zona industriale penso ad una vera e propria foresta parliamo di 52 mila metri quadrati di area penso ad una vera propria foresta con migliaia di alberi di specie autoctone che servano a fermare l'inquinamento industriale e alla creazione dell'oasi del fiume Metauro un progetto di respiro europeo di recupero ambientale e nella zona più a ridosso della costa di rilancio turistico e qui lancia un'altra proposta con un camping di grande qualità però visto che il settore è il settore trainante del nostro territorio così racconta ad Anna Marchetti questa mattina appunto Stefano Marchegiani che vedete in questa fotografia e che lancia questa proposta che non è assolutamente male per la Croazia 600 disdette le linee sono state chiuse Paolo Gorini il tour operator sabato dice farà l'ultimo collegamento in tre viaggi solo 25 passeggeri ormai la stagione è andata solo 25 passeggeri con 400 posti liberi 25 passeggeri coraggiosi 25 passeggeri incoscienti 25 passeggeri che così decidono comunque di sfidare la sorte e quindi è scattata poi la paura anche per quello che comporta il rientro anche se devo dire che il fatto che al porto ci sia una postazione per fare subito i tamponi a chi sbarca era un fatto positivo visto quello che sta accadendo ad altri cioè quello che sta succedendo ad altri è che praticamente questi tornano queste persone tornano dalla Croazia poi sono costrette a casa perché vanno in isolamento fiduciario in attesa di questo tampone che per legge tra virgolette dovrebbe essere fatto effettuato entro 48 ore però ci sono persone che ancora aspettano e che sono lì che non hanno sintomi però il fatto di essere tornati da un paese a rischio come appunto la Croazia li fa rimanere dentro dentro casa sono state annullate anche le navi con i passeggeri statunitensi previste per la fine di settembre insomma per quest'anno ormai come dice questo Paolo Gorini bisogna metterci una pietra sopra ma nel 2021 dice il giornale scrive il giornale da Civitanova andremo a Spalato poi da Pesero a Rimini e infine a Pola insomma ecco quindi ci sono comunque progetti ancora su questa tratta e non solo intanto i diportisti rientrati fanno quasi finta di niente però attenzione non ci sono solo quelli che vanno in Croazia perché poi scendono per esempio a Spalato o a Lusino e quindi vanno sulla terraferma magari vanno a fare due passi vanno a mangiare al ristorante eccetera eccetera c'è anche chi con la barca va dall'altra parte dell'Adriatico butta giù l'ancora però poi li rimane quindi non va nella terraferma rimane con le stesse persone per tutto il tempo con le quali è partita insomma quindi fondamentalmente il contagio è praticamente impossibile e dunque ci sono anche questo tipo di rientri dalle coste della Croazia e di questo si parla in questo articolo del giornale poi i test sierologici e qui è una notizia che riguarda 7200 addetti tra professori insegnanti addetti alla pulizia e quant'altro quindi un bel numero se consideriamo parliamo di test sierologici per gli insegnanti quindi maxi screening per questi 7000 addetti sarà su base volontaria quindi non sarà obbligatorio comincerà lunedì 24 agosto e proseguirà fino al primo di settembre ora dal dipartimento ASUR spiegano che tutto questo intanto coinvolgerà direttamente i medici di medicina generale ma funzionerà su richiesta dei singoli operatori per il test rapido se addetti o docenti vengono trovati con valori nel sangue che indicano la presenza del virus anticipa il direttore del dipartimento Eugenio Carlotti questi verranno segnalati dai medici al dipartimento e presi in carico dai distretti territoriali di competenza perché poi dopo queste persone se vengono trovate con delle percentuali anche minimi nel sangue del virus devono fare il tampone chiaramente quindi la verifica della positività adottando poi eventualmente le misure di contenimento del caso nel caso in cui appunto il tampone sia positivo lo screening prevede il monitoraggio di insegnanti amministrativi e personale ATA per tutte le scuole siano esse primarie o secondarie oltre a nidi scuole dell'infanzia e paritarie sulla base dei numeri forniti da lente locale solo a Pesaro parliamo di circa 7200 addetti complessivi nel mondo della scuola scrive Letizia Francesconi sul Corriere intanto invece sul Carlino su questa sempre su questa notizia dei test sereologici gratuiti per i dipendenti scolastici quindi sono gratuiti altrimenti costa mi pare se non ho letto male sono andato a vedere il sito dei laboratori qui di Fano mi pare una cosa media sui 40 40 euro ma poi se uno vuole può arrivare fino a 100 euro però poi fa tutto tampone compreso fa veramente di tutto però una cosa già dignitosa decente 40 euro ecco rispetto ai contagi però leggiamo l'articolo che è scritto questa mattina sul giornale Simona Spagnola allora rispetto ai contagi qual è la situazione in provincia c'è stata una recrudescenza di casi dopo il rientro dalla Grecia e dalla Croazia tanto che questa mattina a Fano abbiamo eseguito 200 tamponi su soggetti che rientravano dai Balcani altri 200 individui sono stati controllati nello scalo portuale dove saremo presenti fino all'ultimo sabato di agosto ed è stabile il focolaio di Fratterosa che per fortuna non ha portato ad individuare altri positivi a parte quello originario che è poi relativo ad un italiano residente in Francia insomma la situazione è stabile ma noi siamo in difficoltà cioè stiamo lavorando con il personale in ferie e senza finanziamenti con turni da 12 ore al giorno e dunque ci siamo attivati per avere risorse risorse di altri servizi perché se il trend è questo cioè aumentano questi contagi ritorneremo ad avere la necessità di più punti diagnostici a disposizione per più giorni la settimana come è accaduto nella prima parte dell'epidemia ecco perché oltre Fano quindi Colme di Rusciano adesso si sta ripensando di riattivare Pesaro e si sta pensando di riattivare Urbino capite l'antifona capite come si sta muovendo la situazione quindi occhio c'è un aggiornamento che non troverete sui giornali questa mattina ma l'ho avuto ieri sera nel mio telefonino quindi è importante allora a proposito della persona che si trova in terapia intensiva quel sessantenne fanese allora sta migliorando ancora di più dopo aver fatto questo ciclo di plasma iperimmune è stato instubato quindi gli hanno tolto i tubi adesso respira autonomamente continuiamo dunque a fare il tifo per lui a pregare per lui affinché appunto possa uscire al più presto dall'ospedale adesso invece andiamo con le altre notizie velocemente Rossini è più forte del virus fondazione festival mai fermi il presidente Letta Gianni Letta famoso Gianni Letta ha elogiato l'attività portata avanti nonostante le restrizioni tra i progetti futuri rendere complementari la casa del Cigno con il museo acqua dal tetto del municipio grazie alla giunta dell'incuria la minoranza accusa Bonci a Fossombrone e assessori di aver preferito puntare sugli uffici di piazza Dante e poi invece dalla pagina 17 del Carlino in bici siamo a terra roveresca in bici sulla spina dorsale d'Italia l'impresa di quattro amici con la passione per il pedale dalle marche fino alla Calabria attraversando tutto l'Appennino nella caccia i furbetti della differenziata ok alle telecamere ma ci vuole personale Carbone chiede al sindaco di San Costanzo i costi del servizio di sorveglianza e ricorda che i vigili a San Costanzo sono due e poi ancora sulla pagina di Vallefoglia nuove luci nei parchi e nelle piazze progetti per Montecchio e Bottega la giunta stanza a 270 mila euro per la red urbano delle sue frazioni Ucchieli il sindaco di Vallefoglia dice così avremo più sicurezza fitofarmaci 10 aziende sanzionate in provincia di Pesaro irregolarità sul commercio e l'uso dei prodotti in agricoltura indagine condotta dai carabinieri forestali Urbino si mette in vetrina c'è il Giro d'Italia Under 23 presentata la prima tappa della manifestazione ciclistica il sindaco Gambini dice il circuito è un circuito mozzafiato sono 150 chilometri di pedalate nella bellezza della nostra raltura e della storia le norme verranno certamente rispettate anche Urbino il carino apre con il Giro d'Italia Under 23 un percorso ducale svelato l'itinerario che porterà dalla città di Raffaello fino a gradare il 28 la presentazione delle squadre la partenza poi il 29 di agosto e ancora sempre dai nostri quotidiani selezionati abbiamo le pagine di sport tre in particolare la prima l'Alma Sumeli Pizzu Lecimia tre acquisti vicini anche per Zigrossi non dovrebbero esserci problemi di Sabatino Esita si lavora anche al nuovo accordo con Lascoli che potrebbe essere ratificato con l'ex Ducci il Bebi Benedetti porta freschezza alle ambizioni vis un attaccante del 2001 va ad arricchire il gruppo affidato a Galderisi in arrivo anche altri giovani con la formula dell'addestramento tecnico e chiudiamo con la VL e questo praticamente questo calendario che in teoria non avrebbe dovuto essere pubblicato ieri ma oggi da mezzogiorno c'è stato un errore tecnico un errore che ha anticipato questo calendario di Serie A se non verrà modificato questo è e quindi si comincia con la prima giornata il 27 di settembre alle 18.15 al palazzetto dello Sport di Pesero al Palasport con la Carpegna Prosciutto appunto la VL impegnata contro una squadra tosta ovvero il Banco di Sardegna e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per la vostra attenzione l'appuntamento con l'informazione in diretta su Fanotv è questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia a voi tutti l'augurio di una buona giornata arrivederci un'appuntamento a voi a voi a voi a voi a voi Grazie a tutti.